Dal 16 dicembre cominciano i lavori per tornare a viaggiare regolarmente sulla tratta Bitonto-Ruvo della ferro-tranviaria. Intanto l'azienda replica le nuove accuse nell'ambito dell'inchiesta sul disastro ferroviario del 12 luglio 2016. La notizia è di quelle senza dubbio tanto attese da tutti gli utenti della ferro-tranviaria e seppur con tre mesi di ritardo rispetto al crono programma reso noto proprio a noi di Teledeon dall'allora assessore regionale Trasporti Giannini, da domani, 16 dicembre, inizieranno i lavori per consentire l'attivazione del nuovo impianto automatico di sistema a controllo marcia treno SCMT sulla tratta Bitonto-Ruvo. Entro fine mese, come annunciato la scorsa settimana dal consigliere regionale Zinni, i treni sulla tratta Bitonto-Ruvo riprenderanno a circolare a velocità normale secondo le stesse tempistiche che avevano prima dell'incidente del 12 luglio 2016. Ecco che al fine di consentire i lavori la ferro-tranviaria fa sapere che sono previste variazioni alla circolazione dei treni nelle giornate del 16 e 17 dicembre. Nel dettaglio, sabato 16 dicembre, la circolazione ferroviaria sarà sospesa a partire dalle 8.30 per tutta l'intera giornata. Gli ultimi treni che effettueranno il servizio viaggiatori saranno quello delle 6.58 in partenza da Bari e quello delle 7.55 in partenza da Ruvo. Per ridurre i disagi e consentire agli utenti di usufruire comunque del servizio, ferro-tranviaria metterà a disposizione apposite corse automobilistiche effettuate con autobus sostitutivi. Per la giornata di domenica 17 dicembre sarà sospesa invece per l'intera giornata la circolazione su tutta la rete ferroviaria e dunque non viaggeranno i treni delle linee metropolitana Bari-Ospedale San Paolo-Cecilia e Bari-Bitonto via Aeroporto. Anche in questo caso però verranno istituite apposite corse automobilistiche sostitutive. Per informazioni sugli orari e sulle fermate che verranno effettuate, l'azienda di trasporti del nord barese consiglia di consultare il sito internet di ferro-tranviaria. Intanto, sul fronte delle indagini effettuate dal nucleo di polizia tributaria di Bari su incarico della Procura della Repubblica di Trani a seguito del disastro ferroviario emerge che due dirigenti del rappresentante legale della società sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per malversazione a danno dello Stato. Dalla attività di indagine svolta dai finanzieri è emerso che la ferro-tranviaria ha avuto nel tempo la disponibilità di ingenti risorse finanziarie destinate in parte al raddoppio della linea ferroviaria Bari-Barletta ed in parte all'amodernamento dei sistemi di sicurezza sulla stessa linea, compresa la tratta dell'incidente. Nonostante la disponibilità finanziaria, la tratta è rimasta priva degli idoni ai sistemi di sicurezza automatizzati che potevano essere realizzati al costo di 600.000 euro. Ma non solo. La stessa società, pur disponendo anche di notevoli mezzi finanziari propri, non ha comunque provveduto a mettere in sicurezza la tratta. Negli ultimi cinque anni la ferro-tranviaria, inoltre ricevuto dalla Regione Puglia, come previsto dal contratto di servizio, compensi per circa 180 milioni di euro, il 58% dei quali destinati alla gestione delle infrastrutture e della sicurezza del trasporto. Nel corso dell'attività investigativa è stato accertato che oltre 97 milioni di euro sono stati distratti rispetto agli obiettivi di sicurezza per i quali, invece, erano stati erogati. Immediata la replica dell'azienda di trasporti, in una nota infatti, ferro-tranviaria sottolinea che la malversazione è inesistente e il corretto utilizzo dei fondi è controllato dall'Unione Europea. Come evidenziato nel comunicato, la supposta malversazione è inesistente in quanto i corrispettivi del contratto di servizio giuridicamente non sono considerati danaro pubblico. Inoltre, il Ministero ha stabilito i corrispettivi da riconoscere alle aziende sulla base dei costi storici, i quali coprono solo in parte i costi di esercizio, in quanto la restante parte viene coperta dai proventi del traffico, restando a carico del contraente, ferro-tranviari appunto, il rischio di impresa in caso di mancata copertura dei costi operativi. E ancora, il corrispettivo fatturato alla Regione Puglia per la gestione e manutenzione delle infrastrutture viene totalmente speso per gli interventi a cui è destinato. Insomma, la battaglia legale è ancora in corso e anche in questo caso si viaggia molto lentamente.